Alberto, non credo che come economista tu sia questa cosa sui... La crisi tra due anni finisce, magari... L'anno prossimo... La vedo molto difficile, la vedo molto difficile. Il mio editore, De Benedetti, non so se dice che l'anno prossimo sarà peggio, quindi io ho detto fra due anni, insomma un po' di ottimismo. Io un po' ad Alessio Antonini e a Maurizio Dianese vorrei fare una domanda se i media veneti la raccontano proprio così... Esclusi i presenti. Sempre esclusi i presenti, ovviamente, no? Se i media veneti la raccontano così come l'abbiamo sentita, l'abbiamo letta nel libro di Mazzaro e nel libretto di Vitucci e come ce l'hanno ricordata adesso, oppure se c'è anche un po' un problema rispetto al sistema dell'informazione in questa regione, no? E dove appunto nelle pieghe o nel lavoro di buoni giornalisti queste cose le ritroviamo e si può anche provare a metterle in fila, ma la ricostruzione di quadro è un po' difficile e soprattutto molto spesso indugia su quei luoghi comuni con cui è stato raccontato il modello economico del nord-est negli ultimi decenni, no? Quando era la locomotiva dello sviluppo produttivo del paese, per cui c'era questa imprenditorialità che aveva davanti sorti luminose e progressive e in fondo c'era una politica che era un po' in ritardo. Abbiamo visto come in realtà un pezzo di questa imprenditorialità senza la politica non sarebbe andata da nessuna parte. Abbiamo visto come in realtà tutto questo abbia generato dei costi, che sono costi ambientali, costi che riguardano la qualità della vita di tutti noi, l'impossibilità di spostarsi, tutte le cose che abbiamo conosciuto in questi anni dal punto di vista della realizzazione e poi degli effetti concreti sulla vita delle persone di questi progetti e tante altre cose che in qualche modo imporrebbero anche da parte di chi opera nell'informazione una messa in discussione forse di questo modello che in fondo non ha funzionato. Iniziamo con Alessio, poi... Allora, intanto bisogna dire che come molti giornali in questo paese siamo di proprietà di costruttori, a proposito veniva citato in pregilo RCS che è la proprietaria del Corriere del Veneto, non diversa è la questione del Gazzettino, ovviamente. Però nonostante ci siano questi rapporti di forza io credo che i giornali locali in questo momento stiano raccontando le cose come ci sono state raccontate da Mazzaro e da Vittucci. Essendo un giornale però, giustamente, tiene in considerazione anche altri aspetti. Questi aspetti sono stati illustrati, questi legami tra la politica e l'economia sono stati illustrati, ci sono stati anche degli interventi della magistratura, alcuni conclusi, altri che si sono risolti in bolle di sapone. C'è anche un contesto, quando parliamo di project financing per esempio sì, ci sono dei difetti intrinseci nello strumento del project financing però negli ultimi anni, e a venire sarà ancora peggio, gli enti locali e gli enti di secondo livello come possono essere le ASL non avranno più il capitale per procedere a delle opere. Non si potrà più pensare che la regione, le province, per gli anni a venire, se non spariranno prima i comuni o le ASL, abbiano il capitale per costruire un ospedale, per costruire un'opera infrastrutturale. È necessario recuperare il capitale da qualche altra parte, e per recuperarlo sarà necessario utilizzare questo strumento che è sostanzialmente il concetto del mutuo. La maggior parte degli italiani si sono comprati una casa andando in banca e facendosi un mutuo. Adesso gli concedono un po' meno, per anni li hanno concessi e poi si sono pagate le rate del mutuo. Queste rate ovviamente sono state più costose del pagamento in contanti. Adesso però, siccome ci sono delle opere che sono prioritarie, non si può pensare di accantonare per 30 anni, 40 anni, per 24 anni i soldi per fare l'ospedale dell'Angelo, è necessario ricorrere al project financing. In realtà, il motivo per cui in Veneto, ma anche nel resto dell'Italia, sono sempre le stesse imprese a vincere gli appalti, è perché le grandi imprese, cioè quelle che possono partecipare a questi appalti, sono numericamente poche. In Italia, il modello Veneto è per eccellenza il modello in cui non sono cresciute le imprese, le imprese sono rimaste piccole. Non si può pensare che Beppi Bruseghini di Santa Maria di Sala, specialista in profilati metallici di eccellenza, possa partecipare al bando per costruire il Mose. Può partecipare in sub-sub-sub-appalto a qualcosa di simile. Ma non c'è mai stato un bando, ma anche perché le imprese che fanno parte del consorzio sono sostanzialmente tutte le imprese grosse di questo paese. Una bella impresa danese avrebbe potuto partecipare? Beh, si sarebbe subito, però, sarebbe nata la polemica, se poi arrivava un'impresa cinese forse era ancora peggio. Non è che adesso io voglia difendere le scelte che sono state fatte dalla politica, però noi abbiamo avuto sempre un paese che di fatto ha in qualche modo, visto con sospetto qualunque iniziativa imprenditoriale, piccolo, medio, grande che fosse, Venezia è in questo il capolavoro. Noi adesso pensiamo, Alberto giustamente, prima parlava della sub-lagunare, che venga fatta o non venga fatta, questo non lo sappiamo neanche ancora, però parlava della sub-lagunare come qualcosa che per i veneziani è inutile, perché non è che un veneziano prende da Venezia e va a tessera. Però vedendoli in maniera diversa, se la sub-lagunare, poi bisogna fare i controlli del momento ovviamente, bisogna fare i controlli tecnici approfonditi, però se la sub-lagunare fosse in grado, che so, di collegare il Lido di Venezia a Padova o a Treviso, probabilmente si combatterebbe lo spopolamento di Venezia. A Milano, dove le case costano molto più che a Venezia, la città non si è spopolata. A Venezia si è scelto, per esempio, di aiutare i restauri con la politica della casa, politica giustissima, che però da sola non è stata sufficiente per frenare l'emoragia, perché proprio la mancanza di aziende all'interno di Venezia rendono la città vivibile solo per chi vive e lavora a Venezia. Chiunque venga trasferito a Padova, venga trasferito a Treviso, o comunque in quello che è questa sorta di area metropolitana che ormai potremmo chiamare patreme, Padova, Treviso, Mestre, perché Venezia è una sorta di yo-yo attaccata da questo filo che è il Ponte della Libertà, unico accesso alla città, spesso trafficato, adesso con i lavori del tram praticamente irraggiungibile, fa sì che questa città sia destinata in qualche modo a scomparire. Tanto più che, non ultimo il caso della capitale della cultura, i trentini e i friulani hanno frenato dicendo intanto spostiamo la sede a Mestre, la mettiamo a Villa Settembrini perché arrivare a Venezia è problematico, seconda cosa facciamo partecipare di più i territori, perché vabbè che Venezia è sulla carta il capoluogo di questa regione, è la capitale del nord-est, però appena uno supera il Ponte della Libertà, purtroppo si rende conto che Venezia conta relativamente. Adesso, i motivi per cui le imprese che hanno fatto le opere infrastrutturali sono sempre le stesse in Veneto e i motivi per cui le imprese che hanno fatto la salvaguardia sono sempre le stesse a Venezia, sono leggermente diversi. Se in Veneto è dovuto al fatto che le imprese quelle erano e quelle potevano lavorare perché le altre non sono cresciute, a Venezia bisogna anche dire che negli ultimi 70 anni, credo, non si sia fatto assolutamente niente. L'unica cosa che è stata fatta è stato l'allargamento del Ponte della Libertà, cioè prima c'erano i treni e poi sono state fatte passare le macchine. Non mi risulta, almeno da quando io sono veneziano, cioè da 37 anni non ho visto cambiamenti a Venezia. Ma non è che fai la Torre Cardenna a Piazza San Marco, però per esempio, ma guarda ti dico semplicemente, questa opposizione che ho visto da parte di una parte dei veneziani nei confronti del rifacimento del Fonte dei Tedeschi, secondo me è surreale, perché se tu lì fai una sorta di centro commerciale la gente probabilmente non dovrà andare alla Coppa di Piazzale Roma o comunque potrà fare degli acquisti al centro di Venezia, che non è una cosa da poco. No, scusa, non è questo. Dopodiché, fammi finire Alberto, fammi finire un secondo. I veneziani non sono contrari alla trasformazione del Fonte. Sono contrari al fatto che venga creata una terrazza che non ha mai visto nessuno. Ma non sì che l'abbiamo vista, il progetto l'abbiamo visto. I veneziani, per chiarezza di cronaca, non sono contrari alla trasformazione del Fonte che ci sono dentro le pantegane, ovviamente, in qualcos'altro, in centro commerciale, come è sempre stato. sono contrari al fatto che arriva un imprenditore e dice io voglio fare la terrazza sotto il Ponte di Rialto, altrimenti ti lascio lì le pantegane. La terrazza è vietata dalla legge in questo momento. E secondo me, e secondo moltissimi veneziani... Bisogna aspettare cosa dice la salvaguardia prima, non è che sia vietata dalla legge. È vietata dalle norme, chiedilo a Gianfranco. Bisogna aspettare il parere della salvaguardia. No, è vietata oggi. Ci vuole una deroga urbanistica per farla. Oggi non si può fare. Punto. Ma non c'entra il centro commerciale. Però, siccome di fatto c'è carenza di imprenditori che investono, fondi pubblici non ce ne sono più, io credo che... Allora, vent'anni fa si poteva venire a patti con una serie di imprese. Adesso anche, ma il margine della politica per venire a patti con le imprese è diminuito con la diminuzione dei fondi pubblici. Per cui il project financing, le richieste delle imprese dovrebbero essere tenute un po' più in considerazione di quello che vengono tenuti in questo momento. Ecco, su questo dei pagamenti dei salari, prima Renzo giustamente diceva non abbiamo mai fatto le gare al massimo ribasso, abbiamo pagato di più. Ecco, lì il problema è stato poi controllare come siano stati usati quei soldi, ma le gare al massimo ribasso sono terrificanti poi per le ditte in subappalto, soprattutto in questo momento non ci sono linee di credito. Cioè, in Europa, questo è il punto, si fanno le gare al massimo ribasso e prima di affidare il lavoro si va a verificare se lui che ha offerto il massimo ribasso e ha vinto, come mai sei in grado veramente di realizzare quest'opera. Noi il controllo lo facciamo a fine corsa. Questo allora consente appalto-subappalto e sub-subappalto. E l'ultimo, dicevo, che fa il lavoro impiccato, perché poi è sempre così, perché tutti devono vivere o guadagnare, diciamo che realizza l'opera con scarsa capacità, per questo si evita. Però, avendo scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa, abbiamo mantenuto le cose nello stesso modo, cioè spendiamo di più e fanno sempre i soliti, subappalto di nuovo, perché mancano i controlli. Grazie, grazie Renzo, grazie Alessio. Io passerei la parola a Maurizio Dianese e poi a Gianfranco, tanto poi c'è un secondo giro. Alla domanda se si scrive o non si scrive, rispondo che è sempre più difficile scrivere. Non so, abbiamo cominciato a lavorare assieme, diciamo che 15 anni fa era facile scrivere, adesso si scrive con fatica, ma lo state chiedendo a chi comunque punta i piedi e scrive lo stesso. Mazzaro scrive, immagino che gli rompano le palle esattamente come le rompono a Vitucci, a lui o a me, insomma non è questo il problema. Voglio farti una domanda, non è un augurio per te, è un augurio per me, spero che qualcuno ti coereli, anzi più di uno, perché vorrei che queste cose arrivassero in tribunale. e mi stupisco che quello che tu continui a scrivere sul giornale sul mattino ancora non sia approdato ai banchi del tribunale, perché dentro ci sono un sacco di elementi che purtroppo fanno riflettere. E mi chiedo come mai la procura di Venezia non abbia mai aperto un'inchiesta su alcuni passaggi. Quella cosa che tu racconti di Marchi e il passaggio delle quote azionari eccetera è assolutamente un illecito, cioè non c'è molto da discutere. Perché non è stata aperta un'inchiesta? Allora questo è un augurio che faccio a noi e che ovviamente non faccio a te, spero che l'editore ti paghi la causa. La cosa che voglio dirti è questa, manca un pezzo a quest'inchiesta, non per colpa tua, ma perché sta avvenendo e non è ancora chiaro quello che avverrà. L'ultima relazione della Direzione Nazionale Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia, pardon, della Procura Nazionale Antimafia, dice che c'è un grande interesse della malavita organizzata nelle opere pubbliche, in particolare a Mestre. Stiamo chiaramente parlando del quadrante di Tessera, perché queste sono le opere pubbliche. Allora, l'ultima relazione dice che l'interesse è da parte dell'andrangheta, e cioè dell'organizzazione criminale in questo momento con più soldi e più feroce e più attiva in Europa. Allora, io da sempre ho una grande ammirazione per la malavita organizzata e noto che me ne sono occupato per molto tempo. quello che tu scrivi nel libro per molti versi mi fa pensare che non solo ci siano appunti di contatto, ma mi fa pensare che i metodi siano esattamente gli stessi. E cioè, quelli che tu individui come i padroni della ferriera non si comportano in modo molto diverso da come si comporta la malavita organizzata. E questo è particolarmente preoccupante secondo me, perché viviamo in una regione in una realtà a Venezia dove non ci sono state grandi inchieste che abbiano toccato la politica. Cioè, ci fermiamo al 92 praticamente. Dal 92 in poi non abbiamo visto più nulla. Si è arrestato e peraltro assolto. Per cui, tutti quei personaggi che tu, tra l'altro, descrivi molto bene perché insomma Renzo ha un modo di scrivere invidiabile che punta molto sulla battuta, sulle citazioni interessanti, tutti quei personaggi che tu descrivi sono particolarmente interessanti e su ognuno di loro andrebbe acceso un riflettore particolare. E allora, per concludere, quel che voglio dire è questo, che evita di andare in pensione e almeno resta qualcuno che scrive di queste cose, perché il difficile di questo mestiere è scrivere di persone che poi si incontrano ogni mattina. Non so come la vivi tu la cosa, non so quante querele hai preso nella tua vita, a me bastano le mie ormai vicine alle 200 e quindi se tutte vinte peraltro finora però insomma in 25 anni ne ho collezionate quasi 200 e quindi non so quante ne hai preso e quante pressioni hai. e la domanda è questa le pressioni portano al fatto che ti incazzi scrivi di più scrivi meglio non vuoi mollare o alla fine le pressioni riescono in qualche modo a bloccare quello che vuoi scrivere? Gianfranco Io per te le pressioni le pressioni portano a scrivere il doppio è per quello che dico senza piageria che lui è un grande giornalista perché le pressioni non lo fanno indietreggiare ma gli fanno fare il famoso passo avanti ecco non capita a tutti purtroppo Gianfranco Sì intanto i due libri vanno letti insieme è utile leggerli insieme sia il lungo racconto di di Renzo Mazzaro che il pamphlet direi di di Vitucci perché anche il testo di Vitucci è ricco di informazioni ma è anche un testo attesi insomma appunto un pamphlet anche quello di Renzo sicuramente che però con maggior spazio a disposizione approfondisce eccetera e approfitto anche io per ringraziarlo del fatto che ha reso per molti anni leggibile la cronaca politica regionale in particolare altrimenti imperscrutabile e anche noiosa le due cose non sono casuali perché anche la lontananza fisica dell'ente regione il modo in cui è organizzata la difficoltà di arrivare a palazzo di seguire anche la discussione oltre che la sua ritualità e la sua la difficoltà di decifrarla sono proprio funzione del fatto che le cose che gli si decidono e si discutono devono restare incomprensibili e la noia è un elemento che la rende incomprensibile mentre con il suo lavoro Renzo in particolare l'ha resa perfino divertente a volte le cose che diceva Maurizio adesso gliel'ho detto tante volte anche prima del libro ed è importante trovare il modo di raccontare le cose così da farle capire e anche da continuare a ribadire la centralità della politica perfino nel tempo in cui l'economia conta tantissimo questa balla stratosferica che agli ingenui viene ammannita secondo cui la politica non conta niente serve per nascondere i politici e il potere enorme che tuttora hanno e questa cosa che non contino niente e facciano tutto gli imprenditori o altri è appunto una balla che de-responsabilizza i politici allontana tutti noi la gente come si direbbe i movimenti le categorie tutti coloro che vorrebbero contare da cittadini dalla politica perché non conterebbe niente invece conta i suoi margini non sono magari quelli enormi di 20 o 30 anni fa ma pesano molto ancora anche le nostre vicende lo dimostrano se c'è oggi la possibilità di evitare che si faccia sublagunare per le motivazioni che io condivido che diceva Alberto che si ridimensioni drasticamente come si sta facendo ma non è scontato che finisca così il quadrante tessera e tante altre cose dipende dal fatto che c'è un margine di agibilità della politica e di peso tuttora della politica che fa sì che un'azione intelligente combinata tra opinione pubblica magari sorretta da una buona e puntuale informazione movimenti comitati associazioni cittadinanza attiva in tutte le forme che può assumere e politica dentro e fuori le istituzioni possa produrre dei risultati e possa udite udite salvare questo paese e perfino salvare questa città che è cruciale è una balla con tutto il rispetto quella che ha detto adesso Antonini non una balla nel senso che ha raccontato una bugia a lui cioè una cosa che si pensa spesso che Venezia per esempio conti poco nella regione Venezia è la città senza la quale la regione Veneto sarebbe una roba che non conta niente non è un caso quello che diceva anche adesso Maurizio che i grandi le grandi operazioni siano su Venezia e intorno a Venezia che è qui lo snodo non di puttanate diciamo qualche piccola zona industriale qua un'autostradina lì no la roba grossa la più grande opera escluso che non si farà mai il ponte di Messina che è il Mose no e tutte le cose che abbiamo citato qui ma pensate per esempio all'operazione su Porto Marghera guardate che Carden non c'entra niente con Porto Marghera anche i giornali lo scrivono no sia chi lo lo teme sia chi lo incensa il Palle Carden non c'entra niente sta su 19 ettari già pianificati alle robe che Carden in grande vuol fare attività terziarie direzionali eccetera Porto Marghera sono più di 2000 ettari che sono rimasti a vocazione industriale portuale eccetera per cui intorno a Venezia girano cazzate pazzesche pazzesche dal ridimensionamento del suo ruolo a robe come questa su Carden no la salvezza di Marghera dipende da quello oppure la sua perdizione perché se si fa se si fa quello non si fa più la nuova industria compatibile su cui stiamo puntando eccetera no non c'entra niente su due cose diverse o meglio l'influenza è indiretta ma come qualunque altra cosa no cioè lo snodo attorno a cui stiamo lavorando in questo territorio è è lo snodo cruciale del nord est e non solo per cui politica economia impresa istituzioni società civile movimenti quelli che si confrontano qua si confrontano sul vero luogo attorno a cui passano le grandi operazioni che determineranno la prossima natura del nord est il potere e tutto il resto e questo voglio dire dovrebbe motivarci di più entrare in campo pesantemente invece c'è sta roba per cui molti giornali anche si fanno a Padova con tutto il rispetto respirano quell'aria lì Venezia è di là del ponte si pensa che sia cioè la cosa è totalmente priva di senso a noi può anche andare bene dico a noi veneziani no sono come questi poveretti che contestano la centralità di Venezia per a proposito della capitale della cultura ma a parte che come ha detto con una battuta felice Massimo Cacciari candidare Venezia a capitale europea della cultura come dare il premio come dare una laurea in fisica ad onore ma ad Einstein e quindi è Einstein che la riceve che ti fa un favore è Venezia che accetta di fare la capitale della cultura europea che fa un favore a chi la candida e a chi con lei condivide le cose non il contrario quindi io avrei risposto francamente a quelli che non volevano Venezia o volevano ridimensionarla ok fate la capitale europea della cultura a Pordenone fatela a Vicenza fatela a Trento dove volete ok noi stiamo qua tanto la gente viene lo stesso a Venezia cioè non è un problema dico insisto anche un po polemicamente su queste cose perché la sfasatura di comprensione relativa alla partita che si gioca attorno all'area metropolitana di Venezia di Venezia è enorme e tutti i nodi attorno a cui stiamo lavorando avranno hanno già e avranno una portata straordinaria comprese le cose sul risvolto criminale di cui diceva di cui parlava Maurizio prima onde per cui diciamo i due libri andrebbero letti insieme anche a quelli che scrive Maurizio sia pure a chiave no proprio sulla presenza l'infiltrazione la presenza della criminalità della grande criminalità nella nostra zona ricordando una cosa su cui concluderei che tutte le grandi operazioni losche fra virgolette con pesantissimo impatto ambientale sociale e anche di accumulazione impropria di profitti in questo territorio dai tempi di Volpi al Mose sono state fatte per mano pubblica in modo legale e anzi asservendo la legge agli interessi e facendo apposta delle leggi per favorire quel tipo di iniziativa là e anche per questo che contro questa logica continuare a ribadire che serve una legislazione che invece vada in senso contrario è fondamentale perché noi non abbiamo solo da combattere i criminali che ci sono o che verranno abbiamo da combattere leggi regole che hanno fatto sì che si facciano queste cose appunto da Volpi fino al piano regolatore del 62 secondo il quale come è noto a Porto Marghera troveranno posto c'era scritto sostanze nocive alla salute umana e all'ambiente all'ambiente qui i grattacieli il PTRC della regione eccetera ma qui stiamo parlando di cose esplicitamente devastanti che sono state fatte in un certo modo per questo la partita deve restare anche sul terreno della politica delle regole sul terreno delle istituzioni vanno in vase va combattuta lì una battaglia senza quartiere coltello fra i denti giocando sulla mediazione e sulla radicalità lì va scaraventata la forza di un'alleanza tra cittadinanza attiva movimenti associazioni politica informazione questo è il punto attorno al quale e la battaglia su Venezia ha tutte queste cose dentro per salvare Venezia rende la fedele a se stessa per fortuna che non sono passate tante cose che si volevano fare a Venezia e che è il valore aggiunto che rappresenta in quanto tale insomma oggi forse ne sono passate fin troppe alcune non sono passate purtroppo non so l'ospedale di Le Corbusier Wright Mills Lloyd Wright alla Biennale e altre cose insomma su cui si può discutere ma diciamo che la salvezza della Venezia che abbiamo conosciuto legata a un progetto di rivitalizzazione e di potenziamento delle grandi opportunità che una città del genere col suo territorio è di straordinaria crucialità buona notizia di oggi la conferma dal Parlamento che l'arsenale passa al comune di Venezia cioè passa alla città di Venezia è una battaglia importante è in mano pubblica in mano controllabile dopodiché si può discutere con l'impresa è giustissimo soprattutto per aprire spazi all'impresa pulita che ha voglia di innovare di stare con gli spazi che aprirà questa enorme struttura al riuso da parte della comunità veneziana lagunare ma di tutti le opportunità che consente ed è una battaglia vinta sul piano della mobilitazione che da tanti anni c'è sull'arsenale sul piano della rivendicazione politica istituzionale e infine sul piano normativo perché quello serviva ed è quello che è una delle poche cose buone della spending review diciamo così questa è la cosa è più difficile che far casino o di dire che tutto è perduto e su questo costruire una identità è più difficile ma è la cosa che può consentire dei risultati in un tempo in cui è tornata molto evidente la centralità di un'area che non è solo Venezia naturalmente ma è l'area il cui cuore è questa città e su questo è fondamentale conoscere per questo libri così sono preziosi come il lavoro che fate quotidianamente a volte lo è anche di più perché è tempestivo insomma arriva in tempo reale grazie grazie Gianfranco facciamo adesso un secondo giro tra tutti per chiudere per cui insomma ci sarà modo sia di entrare nel merito degli stimoli che ci sono stati e di replicare alle cose che sono state dette sia per affrontare un nodo che era questo un po' che poneva anche Gianfranco della crucialità delle scelte politiche e di quello che si fa dall'alto dal basso nelle istituzioni e fuori rispetto a questo modello che con la crisi ha mostrato però drammaticamente la corda c'è un capitolo dedicato alla storia delle occasioni mancate dal centro-sinistra in Veneto rispetto invece alla costruzione di questo sistema di potere e tra le altre cose c'è una cosa che emerge con grande nettezza nel lavoro di Mazzaro la candidatura leghista alla presidenza della regione nasce sotto il segno e viene propagandata attraverso l'idea di rompere con il sistema di potere galan e viene raccontata così e ci cascano anche in tanti anche lui ci crede per un periodo ci cascano addirittura urbanisti democratici che pensano che certo imperdonabile il razzismo l'intolleranza della Lega nei confronti di chi è diverso però sul territorio la Lega farà valere le ragioni di chi difende i beni comuni sono state dette da voci autorevoli dentro e fuori il Veneto sciocchezze di questo genere poi in realtà quello che abbiamo verificato nella vicenda di questa prima fase della presidenza Zaglia è che la composizione degli interessi è stata molto rapida dai progetti dell'aeroporto al project financing sulla sanità al via libera natalizio lo ricorda il libro a Veneto City e alle altre operazioni infrastrutturali in riviera del Brent l'elenco potrebbe essere molto lungo lo stesso successo elettorale di una figura come quella di Tosi marca lo spostamento anche di una serie di interessi in un modello particolarmente inquietante che tiene assieme una coalizione dove ci sono dai nazi skin al tradizionalismo alle sette tradizionaliste cattoliche con i centri storici del potere democristiano veronese le banche la fiera l'università eccetera in cui Verona è un centro di potere diventato negli anni di Tosi un centro di potere significativo e di questo snodo affari politica significativo di fronte a questo c'è diciamo questa incapacità che viene raccontata del centro sinistra di affermare un modello una strada alternativa per questo territorio in alcuni casi forse c'è anche una complicità non dimentichiamoci gli appalti per la realizzazione della nuova base statunitense al Dalmolina a Vicenza finiscono alle cooperative emiliane una quota marginale in questa ridistribuzione dei subappalti finisce finisce lì la recentissima inchiesta e la condanna in primo grado di Brentan dimostra come personale politico che viene dalla storia del partito comunista dei DS e poi del partito democratico sia stato integrato in questo sistema di potere di gestione delle infrastrutture in Veneto ma credo non sia sufficiente questo discorso a spiegare questi a spiegare questi questi limiti della politica nell'affermare un modello alternativo a quello che abbiamo conosciuto ecco questo un po' il tema di questo secondo e ultimo giro conclusivo ma ovviamente sono uscite tante cose nel primo giro per cui se volete più sintetico va bene io provo a rispondere aiutando la sinistra perdonandola un po' perché fa una rampicata di sesto grado nel Veneto cioè per ragioni che lunghissime che taccio poi alla fine noi siamo una regione che ha il DNA di centro-destra esattamente inversamente alla Toscana Naponi che ha il DNA di centro-sinistra per cui io dicevo già all'epoca di Galam ma si può anche dire adesso di Zaia se noi prendiamo nel 2005 Zaia e lo convinciamo a candidarsi presidente della coalizione di centro-sinistra in Toscana e facciamo l'inverso con Rossi lo portiamo qui e lo convinciamo a candidarsi presidente della coalizione di centro-destra finisce lo stesso più o meno cioè c'è oggettivamente una difficoltà Venezia isola rossa ecco isola e rossa tutte e due cose che spiegano anche tante delle cose che hai detto tu Gianfranco e che però mi piace la conclusione del tuo discorso cioè un protagonismo nuovo deve nascere deve nascere mi spiace per Antonini ma su Venezia che Venezia vengono se non altro ad avere come scenario il Veneto non sarebbe non sarebbe importante senza Venezia e Venezia invece può e ha fatto per tanti anni per secoli a meno del Veneto l'ha trattato e per cui c'è anche tutto questo tutto questo tutta questa storia che giustifica tanti attesamenti però sugli errori del centro-sinistra qui bisognerebbe anche fare cioè comportarsi in modo un po' diverso voglio dire evitare di fare le cose sbagliatissime del tipo siccome perdo almeno investo nella perdita porca miseria in modo che il prossimo giro sia più facile qui è andato tutto all'inverso dal 2000 da Massimo Cacciari nel 2005 a Massimo Carraro nel 2010 Giuseppe Bortolussi Bortolussi si presenta ancora come sempre come segretario della CGA di Mestre non gli viene minimamente in testa di dire sono anche consigliere regionale del centro-sinistra ma non lo dice mai Gesù cioè insomma si vergogna o meno e dopo ci sono anche altri errori errori insomma sono proprio delle analisi qui nel libro che nel libro mio cito a mia volta il tuo libro quello su Gorgo il problema della sicurezza per esempio ma non è solo quello che tu hai interpretato benissimo ci sono delle cose che la sinistra non capisce dei fatti del Veneto e anche del carattere dei Veneti i Veneti hanno secondo la sinistra hanno solo dei difetti mentre dei difetti sono dei pregi per esempio la capacità imprenditoriale che per forza di cose deve essere evasione fiscale ma chi l'ha detto cioè prima uno è imprenditore poi casomai evade ma prima si è inventato il mestiere di fare imprenditore cioè cose che ecco sarebbe lungo indicare che in certo senso esigerebbero un cambio di marcia cioè oppure smontiamo dall'auto e prendiamone un'altra andiamo in bicicletta facciamo una cosa diversa mettiamo a frutto analisi che dovrebbero essere mai mature e andando per per argomenti rapidamente io sono rimasto impressionato per esempio sul Mose che fatto salvo tutto quello che è stato detto cioè che è cominciato con una concessione e che poi tutto è stato delegato a queste imprese che non si potesse mai parlare del Mose in modo in modo sereno perché chi criticava doveva per forza per forza essere il governicchio del droghiere ti ricordi il sindaco di Topolinia cioè una 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 enfatizzazione una enfatizzazione al contrario dovevano essere per forza caricature e quindi che era un meccanismo fatto apposta per indurre far perdere le staffe agli avversari che è il sistema con il quale il centro-destra e nella gestione galana soprattutto nel Veneto ha praticamente impedito che si arrivasse a discutere delle cose perché bisognava sempre litigare questa cosa qui è piuttosto evidente ed è una una trappola sulla quale non bisognava non bisognerebbe cadere se vogliamo se vogliamo occuparci davvero cercare di fare quello che Alberto dice vigilanza civica a questo proposito io devo dire che tra le tante telefonate che ho ricevuto mi ha chiamato anche uno è un fatto che mi ha impressionato un dirigente della regione che è andato in pensione l'anno scorso che io conosco e che mi dice io ho letto il tuo libro sto finito di leggere il tuo libro è scritto bene eccetera però mi ha fatto stare molto male perché dico io e dice io con questa gente qua ho lavorato trent'anni non è che pensavo che avessero l'aureola attorno alla testa proprio così però insomma neanche proprio il bene comune però l'interesse comune e neanche quello e dico io ma a chi ti riferisci e lui dice e comincia a fare una serie di nomi che poi sono consiglieri regionali assessori politici di spicco e dico se è così allora io mi do una medaglia nel senso civico perché ho contribuito a far aprire gli occhi stavo per dire anche a chi avrebbe dovuto aprirli e l'ha detto lui anche a me che dovevo averli più aperti poi parlando con altri diciamo magari è impossibile che un dirigente della regione non fosse al corrente beh questa persona qua che io conosco ha lavorato per 30 anni nei servizi sociali che sarebbe il fronte con il quale tu ti misuri con le disgrazie altrui con le situazioni più disagiate che magari non guardi dietro guardi soltanto e pensi pensi che il tuo assessore sia intanto lui ti dice sempre altro come si esca da questa situazione qui è una è una cosa che questi dibattiti qua poi porta sempre a chiedersi io mi riterrei esonerato dal dare una risposta nel senso che non mi si chieda una ricetta per uscire sono esattamente nelle condizioni tue forse anche molto di meno che tu come politico hai una visione di un certo tipo o nelle condizioni di tutti noi penso che sia necessario per ognuno fare delle cose che si ritengono utili e qui arrivo a quello che dicevi tu Maurizio che poi tu hai detto tutto alla fine non è una domanda era una domanda retorica la tua cioè certo che 200 quarelle no molti di meno però ne ho beccate e le ho vinte tutte meno una tra l'altro che era con con De Rose e peraltro 1986 ministro ho vinto il primo grado il secondo grado mi hanno dato sette mesi in terzo grado poi rifare il secondo grado rifatto il secondo grado è condanna a 500 mila confermata sono pregiudicato per dopo 5 anni viene cancellato quindi per dire per dire che insomma adesso senza darci la medaglia il il fare ognuno il suo lavoro nel metro quadrato in cui insisto non dico di essere Dio però sono quello che gestisce questo metro quadrato finché Dio non mi fulmina allora se il mio vicino fa andare il metro quadrato in cui insiste lui al meglio tanti metri quadrati forse riescono a coprire la superficie del Veneto che non è ancora coperta da capannoni in pillole proprio perché siamo forse anche un po' stanchi io credo una cosa intanto ha ragione perfettamente Gianfranco a dire che la politica non è un vecchio arnese che non serve più la politica è quella che poi genera anche i mostri se vogliamo perché è verissima questa cosa che qui è tutto è stato fatto nel pieno rispetto della legge si sono inventati le nuove norme si sono inventati il cipe che dava direttamente i soldi alla grande opera senza più darli a Venezia senza controllo si sono inventati le conferenze di servizio che potevano avere anche una logica giusta nello sveltire una burocrazia idiota ma in realtà vengono usate spesso per altri fini e il controllo anche lì quindi la politica è importante perché quando si fa una norma da dove non si esce anche i giudici più coraggiosi perché anche i giudici sono come i giornalisti Renzo ci sono quelli appunto che non indietreggiano e ci sono quelli magari un po' meno coraggiosi ma i giudici coraggiosi che ci sono se non hanno la norma la Corte dei Conti è stata come dire tagliata qualche anno fa gli hanno tolto moltissime competenze e quello si vede e si paga io credo una cosa sola che sia molto e molto importante nella politica come giornalismo la concorrenza cioè quando il PD si è messo a fare a scimmiotare diciamo così il centrodestra per dire qui nel Veneto vince sempre da destra allora io mi travesto da centrodestra in realtà l'elettore che non è scemo sceglie sempre l'originale e quindi il PD continua a perdere non voglio con questo dire che la scelta dei candidati sia stata sbagliata ma insomma ho detto ma insomma è abbastanza quindi rincorrere gli altri sul loro terreno si finisce per fare una brutta coppia e in realtà per perdere questo vedendola diciamo bene volendoci pensare male c'è un terreno grigio in mezzo tra PD PDL destra sinistra come si chiamavano una volta PC e DC in cui si bada prima agli affari e poi alla politica non dimentichiamoci che molti esponenti che oggi governano la città non so sono stati nominati eppure essendo di sinistra dalla destra cioè Paolo Costa che per carità è una persona molto brava molto efficiente e sa dove vuole andare esattamente e comunque è stato il primo atto del governo Berlusconi il sindaco Cacciari era contrario e uno dice come Costa di centrosinistra ha nominato a Berlusconi contro il parere di Cacciari sì e altri casi insomma mi viene in mente questo quindi come dire il cuore di tutto questo è uno la sana concorrenza perché quando quattro giornalisti qui scrivono tutti lo stesso articolo perché hanno letto il comunicato stampa della regione hanno letto il comunicato stampa di Marchi che arriva da Milano se non lo sapete quando voi io lo chiamo al telefonino se vuole risponde se no scrivo lo stesso qualcun altro passa per le vie gerarchiche allora scusi vorrei parlare con il presidente ah no il presidente non si può deve chiamare Milano Milano sì deve chiamare l'ufficio stampa di Milano chiami l'ufficio stampa di Milano l'ufficio stampa di Milano ti manda due righe e così funziona questa è la morte del giornalismo perché vuol dire che poi domani Gazzettino Corriere Nuova Venezia Corriere tutti scrivono la versione edulcorata dell'ufficio stampa allora io voglio bene i miei colleghi che fanno il loro lavoro nell'ufficio stampa ma il lavoro del giornalista e dei giornalisti come Mazzaro insisto perché sono un po' triste perché effettivamente è andato in pensione quindi cercheremo di recuperare non dovevo non dovevo darla la notizia ma lo dà però lo recupereremo perché perché un giornale serio non può fare a meno della curiosità e dell'intelligenza di Mazzaro per cui continuerà esattamente a scrivere grazie a tutti Niente parlando della della politica regionale quindi della teoria cromatica che dipinge il Veneto ancora una volta non voglio tornare sul tema precedente però si segnala una poca centralità di Venezia in questo caso non è un caso se Venezia appunto come diceva Renzo è un'isola rossa il resto del Veneto è verde e azzurro questo è un altro segnale dopodiché non posso che essere d'accordo con Alberto sul fatto che di fatto parlare del centro-sinistra a livello regionale è un po' sparare sulla croce rossa perché i tentativi successivi da Cacciari Carraro a Bortolussi non sono stati altro che un tentativo di scimmiottare il centro-destra con poco successo però anche in questo caso credo anche in questa teoria cromatica si inserisce nuovamente una visione molto diversa della realtà che ha Venezia rispetto al resto del Veneto e infatti in questo caso Venezia che è specularmente governata dal centro-sinistra come il Veneto è governato dal centro-destra con larghe maggioranze sia a Venezia dove prima parlavi prima Caccia parlava della situazione di Verona dove appunto si va da una maggioranza che va dalla Lega fino all'estrema destra fino ai gruppi ultracattolici di ultradestra la stessa cosa è successa a Venezia in maniera speculare si va da un centro fino a una sinistra che nel resto del paese nel resto del Veneto è quasi scomparsa in Veneto è quasi scomparsa fa un consigliere regionale questa è una realtà da tenere in considerazione è una regione che ragiona in maniera diversa da quella del suo capoluogo ed è anche credo non vorrei sbagliarmi ma credo sia una delle poche regioni d'Italia che si comporti in questo modo che ha una larga maggioranza di un colore nel capoluogo e invece ha una larga maggioranza del colore opposto nel resto della regione basta pensare semplicemente al fatto che la provincia scomparirà per lasciare posto alla città metropolitana però finché il Veneto orientale avrà diritto di voto su quest'area che comprende la laguna vincerà il centro-destra probabilmente anche le prossime elezioni queste sicuramente l'abbiamo visto tra l'altro ha vinto un centro-destra scacciando un centro-sinistra che nel bene o nel male qualcosa aveva fatto cioè non era completamente in viso non era investito da da avvisi di garanzia non era stato massacrato dalla stampa era stato un centro-sinistra che ha che ha lavorato eppure è scomparso è stato spazzato via rapidamente volevo solo dire questo qualcosa da aggiungere se no passerei la parola Gianfranco così chiudiamo forse queste formule proprio centro-destra e centro-sinistra non funzionano più sì non funzionano più a parte che anche lo stesso Veneto non è un conto è il voto regionale poi le città i paesi sono cose diverse il centro-sinistra per stare un attimo su questo terreno governa Venezia governa Padova governa Vicenza ha ripreso Belluno ha ripreso molti centri medi Rovigo non ha proprio ripreso Belluno ha vinto la sinistra abbiamo vinto noi certo battendo il centro-sinistra normale quindi ha vinto la sinistra il centro-sinistra come a Feltre cioè parliamo dell'area vasta di sinistra o centro-sinistra e anche con le innovazioni a cui eludeva adesso Beppe dicendo che sono cose che vedono poco io per esempio penso che il Veneto ricorrentemente esprime una forte volontà di cambiare se vede una cosa che può essere nuova è stato così a un certo punto per esempio a un certo punto i radicali avevano intercettato un forte consenso era successo anche per i verdi prima che diventassero a una dimensione diciamo adesso per esempio Grillo ha già preso e prenderà un sacco di voti poi ognuno dovrà fare delle scelte allora ognuno vede comincia a discriminare insomma ma ogni tanto si apre una finestra e occorre saperci lavorare per questo io penso che la vicenda del Movimento 5 Stelle non ne abbiamo parlato qua ma in realtà come il Veneto può essere molto interessante per come va dipenderà cosa faranno a Mira a Parma ma è una cosa interessante diciamo abbastanza ambigua da consentire un messaggio vasto e da far sì che tanti la pensino come come gli piace a loro in quel momento dopodiché quando dovranno decidere si capirà meglio insomma ma in questo momento c'è una disponibilità nel Veneto a confrontarsi con proposte nuove c'è stata anche altre volte per esempio la prima candidatura Galan un centro-sinistra ancora classico ha buttato via l'occasione di vincere candidando sciaguratamente il povero Benzic e dividendosi un'altra grande opportunità è stata quella in modo più trasversale quella del Movimento dei Sindaci prima fase lo ricordi nel libro e ricordi anche come è stata scientemente sabotata sia da Bossi sia da D'Alema in modo da tagliare l'opportunità che un Movimento trasversale tra l'altro pesante perché metteva insieme sindaci amministratori ma anche tanti altri imprenditori sindacalisti perfino movimenti come ricordi anche tu potesse aprire segnare una svolta quindi sono cose di cui occorre tenere presente perché il quadro non è immobile anzi questa è una stagione in cui c'è mobilità elettorale ma anche negli atteggiamenti occorre intercettarli questo vale anche per Venezia che appunto ripeto non è un'isola rossa nel senso classico lo è rispetto all'istituzione e regione ma rispetto al territorio la realtà per fortuna è più variegata anche se il Veneto profondo è quello che dicevate voi quello che spiega Ricamboni il perché che tu citi che io conosco bene eccetera e quindi c'è questa permanenza e mobilità insieme su cui occorre lavorare diciamo qui abbiamo una realtà un po' diversa è un'anomalia effettivamente felice ma non è sempre stato così perché fino al 75 questa è una città in mano alla DC poi ultima fase col PSI ma è così alla fine degli anni 80 hanno tentato il rovesciamento alla metà degli anni 80 hanno tentato il rovesciamento 85 non a caso De Michelis i socialisti entrano al governo in regione ed entrano in governo e a Venezia riportano la DC al governo poi li mandiamo a casa nell'88 89 loro rifanno il il contraccolpo nel 90 nel 93 mandiamo a casa Bergamo che adesso abbiamo riportato a casa in un'altra cornice in un'altra cornice che è la cornice che ricordava prima Alessio Antonini quando la Lega trionfante e la destra trionfante hanno appena preso la provincia e occorre costruire una coalizione più larga resistere e si vince al primo colpo contro ogni contro quasi ogni previsione perché qualcuno che l'aveva previsto c'era che si sarebbe vinto però siamo in questa situazione coalizione politica a fronte dell'esplosione dei problemi nei termini che abbiamo detto prima che apre contraddizioni nella giunta nel consiglio nell'amministrazione nel suo insieme nella città in questo quadro e dentro il contesto regionale che voi avete disegnato nel gioco dei poteri nel confronto tra soldi e il peso crescente che hanno indebolimento certo non scomparsa indebolimento della politica e uso delle leggi in maniera molto disinvolta riportare la capacità della politica della comunità locale di contare di pesare è dentro questo quadro un gioco difficile ma non è eludibile non ci sono scorciatoie per cui o si sta in questo scontro durissimo con intelligenza e con radicalità e appunto trovando come dire valorizzando la necessità che è la buona informazione ma la scienza perché noi abbiamo avuto negli ultimi vent'anni un trapasso devastante di conoscenza che prima era accumulata in luoghi pubblici e adesso è stata sostanzialmente privatizzata mi pare che lo racconti tu come la montagna di competenze accumulate sulla laguna questo è un territorio anche così la sua centralità nasce anche dalla sua specialissima connotazione e anche dalla sua dimensione cioè guardate per fare il confronto con una città pari Padova per esempio 300.000 abitanti giù di lì il comune come noi Padova 92 km2 Venezia 415 km2 dove c'è una laguna una delle zone industriali più grandi d'Italia infrastrutture straordinarie per peso costruite e costruende come il Mose il centro storico forse più famoso al mondo la concentrazione di turisti più impressionante che ci sia Mestre è la seconda città turistica del Veneto la prima è Venezia per dare l'idea di cosa stiamo parlando cioè il business su Venezia è pazzesco è planetario non è un caso che qua a fare i giochetti sul comune che ha problemi e quindi è costretto come scrivete voi come se questa cosa fosse rilevante a far cassa far cassa per un comune significa garantire i servizi sociali garantire che paga gli stipendi garantire che paga le cooperative le imprese che lavorano per loro far cassa significa questo significa chiudere i bilanci se no ti commissariano e se ti commissariano non è che viene il commissario come scivoletto per due mesi quella volta viene il commissario come Troiani quando mandammo a casa Ugo Bergamo che fa lui i bilanci che fa lui queste operazioni questo è il problema che si trova di fronte a cui si trova di fronte un comune quando deve chiudere rispettando il patto di stabilità quindi il far cassa su cui si ironizza è questo è questo ma per far cassa giochiamo pure banalmente e chiudendo subito a Venezia tu ti confronti con grandissimi imprenditori perché è un business viene Prada viene Pinot viene Carden non a caso adesso tra parentesi l'unica istituzione che ha posto delle condizioni a Carden è il comune di Venezia regione provincia perfino il governo quando qualcuno dei suoi esponenti ha parlato hanno detto sì e basta l'unica a prescindere l'unica istituzione che ha posto delle condizioni vincolando il sindaco a rispettarle con un voto del consiglio comunale è stato il comune di Venezia quindi non esiste prendere o lasciare per noi lo ha ribadito anche oggi Orsoni proprio oggi forse l'avete ripresentito quindi non esiste perché ma non perché lui è orgoglioso o noi siamo orgogliosi perché sappiamo perfettamente che abbiamo in manio una macchina straordinaria che non c'è Carden che tenga che viene qua e non c'è imprenditore grande o piccolo o mecenate cioè noi lavoriamo con i nostri imprenditori dobbiamo farlo alla pari nel territorio e quando vengono dal resto vengono dal resto del mondo grandi perché è un gran business Venezia bisogna gestirlo bene con trasparenza tenendo la comunità locale nella capacità di controllarlo la vigilanza attiva di cui voi siete i primi ovviamente quelli che raccontano rendono trasparenti le cose però poi il gioco si fa sul terreno della politica delle istituzioni della società e lì tutte queste cose convergono insieme o peserà qualcuno che in un luogo così appetibile come Venezia altro che decadenza questo trucco che una volta Venezia ha inventato per sé per vendersi meglio e che adesso inventano per comprarsela meglio questo trucco lo dobbiamo smascherare e riportare le cose come stanno come fate voi grazie a Gianfranco grazie a tutti i nostri a tutti i nostri ospiti ovviamente i due libri sono da leggere e credo che già in autunno avremo modo di riparlarne e ridiscuterne per le brucianti questioni che ci pongono grazie a tutti grazie a tutti i nostri ospiti 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 Grazie a tutti